Salve a tutti amici dei Transformers, da justlucadalforumotorobo.it e benvenuti nella nuova video recensione di Transformers. Anche oggi parliamo di Kingdom, terza parte della trilogia War for Cybertron Generation, che abbiamo già detto festeggia il 25ennale della storica linea Beast Wars, proponendo insieme ai già visti, potremmo dire, G1 Generation, già presentati per le linee due precedenti di questa trilogia, ovvero Siege e Earthrise, presenta appunto dei Revival delle versioni moderne dei storici personaggi appunto dei Beast Wars Biocombat da noi in Italia. E chi è più rappresentativo di Biocombat, Beast Wars, insomma, se non Dinobot? Che, nonostante il nome abbastanza banale, potremmo dire, è appunto lì chi si ispira ai famosi Dinobot G1 di Grimlock, Slug, Slug e compagnie, insomma, chi non li conosce. Insomma, il nostro Dinobot qui è uno dei personaggi fondamentali di questa saga, di questa serie, ma è anche, si potrebbe dire, è assurdo, uno dei personaggi più famosi proprio del Phantom dei Transformers in generale, proprio per il suo personaggio, insomma, visto appunto nel cartone animato di Beast Wars, dove ha questo evolversi nella sua storia, dato che nasce come Predacon, facente parte del gruppo dei cattivi del nuovo Megatron, appunto, di Beast Wars. Li assumo un pochino un'altra storia, per chi non lo sapesse, ma vabbè, la sanno anche le pietre, ma diciamo appunto che il nostro Dinobot si ribella a Megatron e si unisce ai Maximal, ovvero i boni della serie Beast Wars, e insieme a questo gruppo, guidato più dall'onore, diciamo, ma dopo anche da una sorta di cameratismo, ho visto questa, verso questa sua squadra, praticamente alla fine anche si sacrifica per il bene dell'umanità, potremmo dire, in una storia epica, ovvero Codo Viro, Codice dell'eroe, diciamo, Codice dell'eroe, insomma, anche se appunto si sacrifica a metà della seconda stagione, il personaggio comunque è talmente così, buca lo schermo, insomma, è talmente ben caratterizzato e tutto, dato che diventa appunto uno dei più famosi di questa serie, anche se poi risorge, diciamo, come Dinobot secondo, come avete visto, se mi seguite, su una recensione di qualche mese, anno fa, insomma, dove appunto avevo recuperato fortunatamente l'originale, appunto, Dinobot secondo, Transmetal 2. Parlando dell'originale, appunto, Dinobot invece, il giocattolo, cui si ispira ovviamente il personaggio, storico, possiamo vedere che comunque, appunto, per quanto fosse ben caratterizzato il nostro Dinobot nei cartoni animati, il giocattolo invece, purtroppo, non era proprio il massimo, che poi per carità l'ho anche rivalutato nel tempo, ma ai tempi, diciamo, come Velociraptor ancora ancora, giocattolo, non era male, a parte il discorso delle gambe sotto il corpo, insomma, di questo Velociraptor. laddove invece il robot era, lasciava un po' desiderare, per quanto avesse dei guizi interessanti, come appunto le zampe, che diventano le braccia, e la testa, poiché qui, come designer, ricorda quella un po' di Grimlock, e infatti poi ne hanno fatto un repaint, il delicatissimo Grimlock di Beast Wars bianco, che però non ve lo faccio vedere, se no, appunto, mi si sfracela fra le mani, purtroppo, dato che è delicatissimo, per via della sindrome della plastica dorata, ma un altro discorso, questo, comunque il nostro Dinobot, dicevo, fatalità ai tempi, quando ho iniziato a collezionare i propri Beast Wars, quando stavano uscendo, appunto, visto che non era questo gran case, il giocattolo, neanche non l'ho preso, l'originale, lo trovai un tarocco a 5.000 lire, c'erano le lire ai tempi, poi sì, a 5.000 lire tipo in una tabaccheria, insomma, però poi col tempo me ne sono pentito, e ho preso l'originale, e appunto dicevo che il giocattolo, comunque, anche il fatto di essere, a parte il discorso che non era proprio così ben fatto, insomma, in disguise e tutto, poi vedendo anche come appariva nel cartone animato, dicevo, alla fine il brutto di questo giocattolo era che era un deluxe, dato che Dinobot poi nel cartone animato appare assai alto nella scala dei Beast Wars della prima annata, dato che praticamente è secondo in altezza solo a Megatron nella prima annata, nella prima stagione, insomma. E quindi dicevo, questo Dinobot originale è stato un po', diciamo, quei tempi hanno rimediato, ecco, nel 25 annale della linea Transformers Classic barra Universe 2.0, dove appunto hanno fatto questo Dinobot Classic, che però anche qui, per quanto sia comunque adesso lo vedremo bello grande, l'ho lasciato in modalità velociraptora apposta, era comunque pur sempre un deluxe come roba non tanto alto, e anche qui in questo caso non è che dava tanto magnificenza, diciamo, al robot, che appunto dovrebbe essere bello alto, sebbene comunque aveva delle intuizioni niente male in modalità di trasformazione, per quanto diversa da quella classica, intuitiva, derivata da quella del Beast Wars. Hanno fatto poi il Masterpiece recentemente, ne è uscito qualche anno fa, che però, appunto, in quanto Masterpiece recente, costa un occhio della testa, quindi spero prima o poi di recuperarlo, però, per il momento, mi sono, mi devo accontentare, diciamo, di questo, questa versione, anzi, fino a, per fortuna, hanno fatto questa versione Generation, che già si vede appunto dall'aspetto del robot, è davvero molto bella, molto fedele appunto al design, in CG del robot, che si vede nei cartoni di matri, in TV, si vedeva in TV. Ah, possiamo vedere già le armi classiche, ovvero la coda che si divideva, che si divideva in due e conteneva appunto una spada, laddove comunque va sottolineato che il nostro aveva, anche lui, la coda però si divideva in tre e la spada era anche un missile, quindi come gimmick era anche avanti rispetto a quella, diciamo, un po' semplice, semplice, insomma, a quella originale del, 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 del Beast Wars, che appunto, ruotava, faceva ruotare sto coso a molla, ecco qua, faceva il ventilatore, diciamo, lo scudo ruotante, potremmo dire. Ah, e non dimentichiamoci anche la testa mutante, la Mutant Head dei primi Beast Wars, che diventava questa sorta di teschio di dinosauro, carina come idea, però alla fine intracciava appunto nel giocattolo originale. Ma vabbè, a parte, basta parlare di robot originale, parliamo di questa versione comunque appunto moderna, molto bella, dicevo, robot, avevo ben fatto. Abbiamo visto, abbiamo detto delle armi, la spada appunto, possiamo vedere che il nostro ha appunto le zampe o mani prensili, anche se però può impugnare armi, però ha il foro qui sul palmo della mano, quindi è un po' limitato poi nell'impugnare eventualmente armi normali, diciamo, che non hanno una spina a livello, insomma, dietro il calcio della pistola. Ecco, a proposito di fori per armi, poi possiamo vedere che però abbiamo questa, ai lati delle ginocchia, abbiamo, si è riuscito a ricavare almeno, adesso faccio un attimo una prova perché... Sì, è una spina valida questa, scusate, non l'ho testato prima, ma sto facendo questa recensione nei ritagli di tempo, devo ancora fare quella scritta, quindi comunque la leggerete ovviamente qui sotto. Comunque dicevo, al nostro ha, sempre nel discorso di War for Cybertron, che avevano tutte le armi, i fori per le armi sparsi nel corpo, abbiamo già visto che i Beast Wars qui di Kingdom sono limitati, però qualche foro si riesce a vedere, insomma, e ovviamente sotto i piedi quelli dovrebbero esserci sempre, diciamo, salvo appunto licenze poetiche come abbiamo visto su Hellraiser, che è dietro le caviglie, abbiamo, abbiamo detto, ai lati delle ginocchia questi fori qua, e basta, nient'altro purtroppo. Dietro la schiena, sì, c'è il foro qui sotto, a questa parte di coda mozzata, però serve appunto per attaccare, volendo, a riposo anche la spada e lo scudo rotante, e quindi volendo può essere utilizzata anche per metterci qualcosa, qualche altro, qualche altra arma, volendo. Peccato non ci sia spazio, non abbiano trovato spazio per dire qui, su queste parti mezze vuote del nostro, dietro le spalle, dietro i bicipiti, insomma, per metterci dei fori, insomma, per armi comunque, diciamo anche lui, è limitato a modo suo, però qualcosa riesce ad avere. Però, ripeto, peccato per l'impugnatura delle braccia, che non può impugnare decentemente, magari, certe pistole. Però, possiamo vedere che, appunto, la posabilità è davvero ottima, dato che può anche ruotare i polsi, oltre che aprire e muovere le zampi in questa maniera, e, oltre a questo, ha le rotazioni solite basi, dei SIG, insomma, dei War for Cybertron, inclinazione delle caviglie, anche poi inclinare frontalmente le caviglie. Ah sì, e ritorniamo sul discorso della schiena, della coda mozzata sulla schiena, che, diciamo, che è l'unico kibble o zaino di questo robot, che in teoria dovrebbe essere assente e non dovrebbe avere nulla, se andiamo a guardare il modello in CGI, però, visto il risultato e tutto, comunque è un Generation, non è un masterpiece, insomma, e adesso andremo a vedere la trasformazione, diciamo che è perdonabilissimo questa mezza zainata dietro la schiena, che però non dà così fastidio, per fortuna. E quindi, davvero molto bello, ah sì, anche come colorazione, possiamo vedere che è comunque quella marrone, marrone grigio della pelle del rettile, diciamo, e arancione, le altre parti robotiche, che servono un po' più, dovrebbe ricordare appunto anche l'arancione mezzo dorato del giocatore e della versione a cartelli animati, e però abbiamo tocchi di blu, ovviamente, come la faccia blu, e vabbè. Diciamo che ci sta come colorazione, non è troppo basilare, cioè, Dio, sì, sarebbe bicromatica, però per il robot qui va anche bene. Passiamo quindi alla trasformazione del nostro, e possiamo vedere che, innanzitutto, abbiamo le zampe qui, nascoste, quelle del Velociraptor saltano fuori in questa maniera dal corpo, sono, insomma, bene nascoste rispetto al robot, insomma. La coda qui, la parte di coda, ah, che poi tra l'altro, interessante, come ha nascosto, quando si toglie questa parte qui appunto della coda, la parte che lo sostiene ricorda un po' un osso, come un po' la spina dorsale, appunto, che aveva nel modello CG il nostro DinoBot. E quindi possiamo vedere che bisogna, anche, trasformazione, bisogna ruotare il bacino. Abbiamo, inoltre, questa, questa, questa maniera che hanno usato, trovato, e che vi ho già accennato per AirRazor, per farne l'esempio. Ah, scusate, mamma mia. Adesso, va bene, adesso dico il discorso che appunto mi sono un attimo accavalato con gli argomenti, volevo prima della trasformazione. Sì, dicevo comunque che possiamo vedere che le pareti qui del torso, che dovrebbero essere il muso schiacciato del vero Siraptor, alla fine invece sono appunto due pareti, pareti falsi, dato che il muso si capisce, si intravede, e in realtà, sì, va a finire davanti al petto del nostro, però, appunto, grazie a queste pareti che lo inglobano, dà l'effetto, come si vede nel cartone animato. Ripeto, davvero, una genialata questa qui. Peccato che non l'abbiamo usata, l'abbiano usata anche su un coso, scusa, scusate, sulla nostra AirRazor. Torno un attimo indietro per la trasformazione, perdonatemi che mi ero dimenticato un passaggio di dire, ovvero il discorso che, scusate, ancora, che il nostro però, dicevo appunto, finalmente il nostro Voyager Dinobot, appunto, è un Voyager, non è più un Deluxe, è abbastanza alto rispetto ad esempio a un Deluxe Cheetor. Il problema è che, appunto, in generale la scala di questi Beast Wars è abbastanza contratta, diciamo, dato che alla fine i Beast Wars erano parecchio, differivano davvero tanto in altezza, se andiamo a vedere le scale effettive, invece qui hanno cercato proprio di comprimere abbastanza, un po' come è successo per gli Studio Series, potremmo dire, quelli però della versione, gli Studio Series Movieverse, che anche lì sono abbastanza contratte come scale, per far accomodare anche i leader un po' più grandi. Qui il nostro Voyager, alla fine, Dinobot, possiamo vedere, è alto praticamente quasi come un Megatron, che è uno di Voyager più alti, un Megatron Siege, magari fa un po' scena il discorso di avere il testone, che però è proporzionato a come al design, appunto, in CGI, però appena tirato fuori la confezione, mi ha dato la sensazione di essere comunque leggerino, e infatti, alla fine, visto che sono pignolo, per il discorso dei massi e delle plastiche, il nostro praticamente pesa quanto un Ironhide, ah sì, con la pistola, ovviamente il fucilone qui di Ironhide, pesa praticamente insomma quanto un Ironhide Siege, che comunque, ricordiamolo, era un Deluxe, un Deluxe grande, ma comunque appunto un Deluxe. Quindi, va sottolineato che il nostro, alla fine, come massa, è praticamente quella di un Deluxe grande, e quindi capisco che non doveva essere magari troppo alto, però poteva, magari per non far sfigurare Megatron B-Source, che comunque esce come leader, che comunque è più alto, però, ripeto, a trovarsi, scusate il gemito che ho avuto, a trovarsi questo Dinobot, che comunque fa la sua figura, però trovarselo così bassetto, dovrebbe essere più bello sovrastante, anche perché, adesso vediamo, Optimus Primal, ancora mi manca, ma sappiamo che è poco, circa quanto alto quanto un Ironhide, forse poco più, quindi, ripeto, le scale qui sono abbastanza compresse, per quanto sia Optimus Primal, dovrebbe essere poco più alto di un Deluxe, per quanto sia un Voyager, ma vabbè. il nostro però, visto anche come hanno fatto un Cyclonus, bello grande e tutto, alla fine, c'è un po' fastidio, sempre il discorso, pago la plastica che compro, diciamo, e quindi, il nostro, alla fine, sapere che è, alla stessa massa, praticamente, pochissimo di più, di un Ironhide Deluxe, non è il massimo, e anche quel discorso era, potevano farlo, ma era un pochino più grande, e anche, rendere un po', appunto, un pochino più, più grande. ecco, semplice, salvo che, non abbiano in mente, poi, di fare, in futuro, anche le varie versioni successive, Transmetal, di questi Beast Wars, e, visto che lì, andando a vedere la scala, vanno sempre più, esponenzialmente più grandi, quindi, Mariano, ha senso che il nostro, sia, Voyager alto, relativamente, dato, per dire, che se hanno voglia di fare, faranno, che, la versione, di Dinobot secondo, questa sarà, ancora, bella, bella, grande, rispetto a questo. Chiuso capitolo, delle stazze, masse, deluxe, classi, eccetera, Voyager, via così, torniamo appunto, alla trasformazione, dicevo, con il nostro, che, tira fuori, appunto, queste parti esterne, di, del torso, possiamo vedere, che, ruotando in questa maniera, diventano, praticamente, adesso andiamo a vedere, le copricosce, delle zampe, formate, classicamente, appunto, dalle braccia, cosa, che invece, non era, abbiamo detto, per, la versione, universe, vista, abbiamo, appunto, qui la test, la, che poi non è neanche, la propria, la coda, qui è proprio, la parte di, ho detto, coda ammazzata, ma in realtà, sì, è la parte di coda ammazzata, va comunque, va a coprire, la testa del nostro, non prima però, di aver separato, il modulo, con spalle e testa, dalla testa effettiva, appunto, del Velociraptor, che salta su, in questa maniera, abbiamo, abbiamo detto, il vaccino, ruotava, e in modo anche da, in questa maniera, diciamo, somiglia alla buona, non sto qui a trasformare, l'originale, ma alla fine della trasformazione, era quella appunto, con le gambe, che si proiettavano, però questa volta, in avanti, erano quelle appunto, davano un po' fastidio, appunto, al, al disguise, del nostro Velociraptor, abbiamo le parti esterne, delle gambe, che si aprono, adesso andremo a vedere perché, chiudiamo, questo, tutto questo assolto, di pannello, andiamo a coprire la testa, l'abbiamo detto, le zampe, quelle che erano braccia, quelle sono le zampe, vanno appunto, a riempire, le parti del torso, che diventano il coplicoscia, appunto, bella mossa anche questa, devo dire, e appunto, anche qui dicevo, le gambe vanno a finire sotto, sotto il torso, a riempire abbastanza, diciamo, la parte inferiore della nostra base, il nostro Velociraptor, ed ecco, brevemente, il nostro DinoBot, il nostro Velociraptor, trasformato, con, scusate, ho tagliato il pezzo, se no ci mettevo troppo, ma praticamente, le gambe vanno incastrate bene, soprattutto i piedi, incastrati su queste fessure, qui possiamo vedere, e abbiamo appunto, il nostro Velociraptor formato, con, appunto, inoltre, infine, la coda, che, abbiamo detto, la spada, va all'interno, come abbiamo, si sa, dal DinoBot G1, B-SWars originale, ed ecco qui, unito il nostro, il nostro Velociraptor, qui, abbiamo detto, che è davvero, anche lui, ha un po' il difetto, delle gambe, dell'originale, che erano sotto il torso, dato che, anche qui, in qualche maniera, devono trovare spazio, vanno anche loro, qui, a finire sotto, il torso, ma sono, diciamo, relativamente abbastanza, in disguise, rispetto appunto, alla trasformazione, tutto classica, eccetera, eccetera, i piedi, qui sotto la coda, non sono proprio il massimo, potremmo dire, però, alla fine, per la trasformazione, è tutto, ci si chiude un occhio, anche qui, a proposito degli occhi chiusi, poi, abbiamo le due parti, della cosce, le parti posteriore, delle cosce, del velociraptor, che erano appunto, quelle esterne, degli occhi finti, nel torso, del muso, del velociraptor, anche qui, sono, dietro, nella parte posteriore, delle cosce, anche qui, è un disgasso, un po' relativo, però, ci sta, non è così fastidioso, comunque, bisogna anche chiudere bene, i pannelli, qui, cosa che, adesso, non ho tempo e voglia di farli, ma, sappiatelo, che si possono chiudere, inoltre, interessanti, per quanto la posa, qui, un po' ironica, qua, con le, delle zampe anteriori, del nostro, le zampe, alla fine, sono assai snodate, per quello, che potrebbero, diciamo, servire, alla fine, sono assai snodate, peccato, per la piega, così, dei polsi in avanti, di queste zampe, però, vabbè, e, bella, anche la testa, ben fatta, si apre, ovviamente, si può, abbassare un pochino, ma non troppo, se no, viene fuori, la nuca, scoperta, peccato, anche qui, però, che non posso, invece, ruotare, la testa, se no, davvero, se tipo ruotava, almeno la testa, era, un po' come il discorso, il rezervi, quel tocco in più, di posabilità, che non fa male, e le cosce, qui, tecnicamente, poi, sono, praticamente, fisse, però, le zampe, da in giù, le zampe posteriori, dal genocchio in giù, sono assai snodate, possiamo vedere, con la stessa snodabilità, delle braccia, appunto, abbiamo visto, dai robot, e, infine, appunto, come possiamo vedere, abbiamo, la versione deluxe precedente, che, come dicevo, l'ho lasciata così apposta, dato che, alla fine, non è tanto più grande, cioè, non è tanto, insomma, il nostro Veo Jaeger qui, Kingdom non è tanto più grande, del deluxe precedente, anche se, diciamo, gran parte della massa, era la coda, mentre qui invece, la coda, la massa, è la coda più piccola, però, alla fine, poi, il deluxe, è alto, come un deluxe medio, di no bot precedente, Universe 2.0, e, comunque, era interessante per il discorso, della trasformazione, delle zampe, le zampe, diventano le gambe, le braccia, sono nascoste, all'interno, insomma, comunque, anche il nostro, Universe qui, ha ragione d'essere, a livello anche collezionistico, peccato, però, il discorso, di non essere appunto, bello grande, come un Voyager, il nostro qui, Voyager, finalmente, di Nobot Kingdom, è, abbastanza grande, però abbiamo detto che, ben fatto, anche come, in scale, eccetera, eccetera, come Velociraptor, e tutto rispetto agli altri Kingdom, ah sì, anche grazie ai fori qui, delle ginocchia, che erano delle ginocchia, potrebbe anche, indossare armi, in versione Velociraptor, per dire, e, appunto, dicevo il discorso, che comunque, a livello di robot, a livello di massa, alla fine, purtroppo, è, come un, deluxe Iron Head, cioè un Velux grande, diciamo, insomma, potevano sprecarsi un po' di più, a dargli un pochino, un pochino di più di massa, insomma, anche per il discorso, ripeto, delle, delle stazze, della classe, delle varie classi, di altezza, dei nostri Kingdom, Beast Wars, però, poi, chissà, ripeto, che, appunto, l'averlo fatto, non così, troppo grande, serve, a eventuali, Beast Wars, Transmetal, eccetera, eccetera, Transmetal 2, che saranno, espondenzialmente, sempre più grandi, quindi, chissà, sperando, appunto, il discorso che, il fatto che non sia, effettivamente, cioè, a vederlo è un Voyager, però, come alla fine, come stazza, ripeto, è leggerino, alla massa dell'Ironide, lì, Siege, quindi, diciamo, a livello, Mari, futura, di eventuali, futuri Beast Wars, Transmetal, e Transmetal 2, speriamo, che abbia un senso, questo fatto, di non essere così, bello, imponente, come doveva essere, o comunque, mi accontenterei, lo stesso, di vederlo, in qualche maniera, se riescono a farne, sempre una versione, di Beast Wars, e Transmetal 2, Dinobot 2, perché sì, perché ci tengo, grazie, quindi, per aver visto, questa mia, video recensione, fatemi sapere, cosa pensate anche voi, di questo, Dinobot Beast Wars, che comunque, ovviamente, merita lo stesso, sebbene, appunto, un po' latitante, a livello di massa, di plastica, leggete poi, anche la recensione, qui scritta, che conduce, al sito di Vector Sigma, dove ci sono, i fumetti, dei Transformers, degli anni Ottanta, tradotti, in italiano, e soprattutto, partecipate numerosi, alla community, di Facebook, di Outerbob.it, grazie ancora, e ci vediamo, alla prossima, video recensione.